Ecco cosa dicono i sondaggi in merito al televoto della puntata di martedì 12 novembre 2024 Prosegue il percorso dei concorrenti nella casa del grande fratello e martedì 12 novembre 2024 una nuova puntata del programma andrà come sempre in onda su canale 5 a partire dalle ore 21 e 35 Alfonso Signorini accompagnato come sempre in studio da Cesare Buonamici, Beatrice Luzzi e Rebecca Staffelli ci guiderà in quella che si preannuncia una serata ricca di emozioni e colpi di scena Il primo grande punto riguarda come sempre il televoto che martedì 12 novembre 2024 vedrà un concorrente essere reso immune dal pubblico della trasmissione Al televoto di questa settimana troviamo ben tre concorrenti tra cui le acerrime nemiche Maria Vittoria Minghetti e Shai la Gatta accompagnate dal noto attore di Beautiful Clayton Cosa dicono i sondaggi in merito a questo televoto davvero molto atteso? Continua dopo la foto Andando ad analizzare uno dei sondaggi più cliccati sul web possiamo notare come la dottoressa Maria Vittoria abbia ben oltre il 55% delle preferenze da parte del pubblico Dietro di lei ma molto più staccata la sua rivale Shai la Gatta che al momento arriva al 27% dei consensi del pubblico Ultimo posto per l'attore di Beautiful Clayton che non sembra avere possibilità di ottenere l'immunità